L'attore Ed Westwick, noto per il suo ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, diventerà padre per la prima volta. È stato lui stesso a annunciare la gravidanza della moglie Amy Jackson sui social, condividendo delle foto toccanti su Instagram. Le immagini mostrano la modella e attrice britannica insieme all'attore, entrambi felici e complici, con il pancione in evidenza. I fan e gli ex colleghi di Gossip Girl hanno già inviato i loro auguri a Westwick, dimostrando il loro affetto per la coppia. Ed Westwick e Amy Jackson si sono conosciuti nel 2021 attraverso un amico in comune e hanno ufficializzato la loro relazione l'anno successivo. Dopo un breve fidanzamento, si sono sposati in Italia nel 2024, in una cerimonia romantica al castello di Rocca Cilento. Ora la coppia si prepara ad accogliere il loro primo figlio, un momento emozionante per entrambi. Mentre Amy Jackson è già madre, per Ed Westwick sarà la prima esperienza della paternità, rendendo questo momento ancora più speciale per la coppia. Le foto pubblicate sui social hanno suscitato grande interesse e affetto da parte dei fan, che non vedono l'ora di seguire questa nuova fase della vita di Ed Westwick e Amy Jackson. La coppia sembra radiosa e piena di amore, pronta ad affrontare insieme.